è arrivata la nuova Tompoma arancione come richiesto dopo due giorni è subito arrivata qui in Sicilia eccola qua questa è quella blu l'altra grigia è di là ora iniziamo ad assemblare il tutto sto ricevendo anche un omaggio grazie queste non erano conteggiate sono stato omaggiato assemblaggio molto semplice 1 2 svitare il brucola inserire posizione e ora pensiamo a questa e abbiamo finito grazie ciao